Io non sono Omega, non l'ho scelto, sono normale io, sto combattendo con Ken normale E vincolo stesso, con Ken normale contro Kodi Omega Ma sei un idiota di merda, perché più che altro Salve a tutti ragazzi, siamo i super fighting bros Io sono Adalbis, io sono Ray E sono Long E siamo diventati a casa E cosa stiamo tocando, si trovi bene, Viner? Cinque, e il cinque è uscito Ma magari, guarda Stiamo giocando al quattro moddato Moddato è con Omega anche No no, moddato, perché Omega c'è un mod di Steve's Fighter E usiamo Link, che è un nuovo personaggio, non lo sapevo E' vero, qualcuno non lo sa, dice, mi che cazzo stai giocando Speriamo che anche lui usi Omega, io scelto per gli PG Omega Ma chi non lo sa, i PG Omega sono tipo i personaggi con delle skill in più Tu le sai cosa fai più Kodi Si rappresenta anche lui Ma tutti quelli che fanno la lobby con... Ma qui adesso, ma tu puoi giocare anche con uno che non ce l'ha Si, se uno può... Ma vabbè, ma non è giusto Ma scegli lui Ma scegli Tu puoi mettere anche un personaggio dentro Allora adesso stanno giocando tutti Omega Magari DJ adesso è forte Si, ma non puoi farlo in classificata Puoi farlo solo in non classificata E quindi in non classificata saranno tutti Omega adesso Si, si La moda è il momento Si sta... ma è divertente Si nota la differenza dei personaggi Non l'abbiamo ancora vista E' facile, adesso non ho ancora visto niente di Omega Ma non so quali sono i tassi Ma non so quali sono i tassi E ti sta sfondando Guardate che stai giocando normale Si Si Ma non so quali è la mossa Ma tu come Kodi sei moddato in qualche modo? Si, sono Link E di me Ma devo fottere, bravo Ma che adesso lui resiste perchè ormai lo sa Quaranta volte l'ho toccato Non è una moda È il gioco Stai perdendo contro DJ Ma fa schifo, è per fortissimo DJ L'ultima carota Metà Metà con Ray Neanche tutta, un quarto Un morso così Ma se la mangi tutta, è schifo Ma mangiala adesso, ma che non la mangi, scusa Ma lasci lì, te lo giuro Ray tu devi lasciare sempre qualcosa nel piatto Si, è una cosa che non sopporto Anche io, adesso devi mangiare la cazzo di carota Ma no Ma no Ma no Sempre È ancora in perfect Comunque è ancora in perfect Eeeee Loco, striscia su Switch Rider E perde Anche io gioco questo gioco di merda Ecco per quello, così puoi dire Gioco a Smash Non puoi spammare una mossa per favore Spamma E' spammato VADER A me è un altro match Cato Poi un altro match Ma si si vedeva che lui Sfruttava questa Queste skill di Omega Che ti ha sfondato per quello Che l'ha fatto di Omega? Niente Ha fatto qualcosa Ti ha rimosso perchè non sei abbastanza sul livello Si in effetti Ti avrei rimosso anch'io Aspettiamo ancora venti minuti allora Ma schiaccia cazzo Ma ormai guardiamo Ma schiaccia cristo dio Oddio Eh? Devi fare tutto tu Devi fare tutto lui Eh lo so che devo fare tutto io Perchè siete un manico di coglioni Ma chi te l'ha detto di farlo? Io guardo il tempo lì E' meglio che quello Perchè Farle fare per dire la prossima volta Te lo dico io Un manico Un manico Solo Dobbiamo dire Eh? Ma deve fare tutto lui Come fosse una critica E infatti E infatti Ma che cazzo dici? Perché io ti volevo schiacciare i tasti di No! Non fare un cazzo Ma lì te lo dici in un modo Che Ma cazzo Locca Ma devi fare tutto te In testa di cazzo Ma guarda che incredibile Ma è proprio una persona incredibile E noi iniziamo con Locca Io non gioco a sto gioco Quindi Ma tanto è using Ken Uso Ken moddato Questa volta è davvero moddato Nel senso la parola Che è tipo figo Cos'è che c'ha il moddato? Ha una mossa forza Però se non sai i tasti E poi fai aduken Tipo Gouken E' vero Con i calci Con i calci No voglio farlo Fammi giocare dopo Ma adesso praticamente tu hai Ah la A è il voto del tuo computer Esatto E io ce l'ho A ragazzi Anche io ce l'ho A Però c'è una questione di merda No beh se spegnete le cose va Adesso sta laggando Non sta laggando Ma sul computer va meglio forse anche Adesso va bene all'online Secondo me all'online va meglio No Non ci va a cagare Adesso va meglio Adesso va meglio Adesso va meglio Ma non c'è nessuno che gioca con i super E' vero La gente ha paura Ha paura E' un super fighting bros Io mi ricordo all'epoca quando erano bravi Perché non l'hanno guittato Ma poi sai cos'è il bello Che noi diciamo sempre Guittiamo il picchiaturo Poi ogni settimana c'è un video di picchiaturo alla fine Un modo dell'altro E' un modo dell'altro è vero E' vero E' vero E' vero Ma se lo stiamo facendo Facciamo sempre Solo che la gente è talmente No perché non sa cosa vuole Non sa cosa vuole Lui in realtà vuole che giochiamo Noi gli diamo tutto ogni volta Voi volete che giochiamo a transistor ma non lo guardate Non lo puoi cercare te Non ho capito Eh ma non ce ne erano Italiani tottonzio vai No A questo si Non aveva selezione la versione si Quindi non ha l'omega Ah di pure vedere la versione Ma 2 contro 3 Ma possiamo anche fare una Una Come dire una classificata Nel mentre Ma scusami marci il gruppo Devi aspettare che finiscano loro No hanno iniziato Cosa ne guardiamo Ma se ne guardiamo loro Ma se ne guardiamo loro Ma perché Ah Omega 7 contro Omega Si può fare Si Ma perché Cioè nel senso Ma anche le round pure No dai No dai No dai Guardiamo noi No se lo guardate Però guardi Non lo guardi La casa tua In casa tua In casa tua In casa tua Che lo sai Magari sei sul cellulare In ufficio Se in ufficio lavori Se sei a scuola Guardi la scuola Ma la scuola Guardi la scuola Vole edificio scuola Perché Ti rimuovono Perché hanno paura di erano Perché sei rosso Ma non avevi anche pingato Non avevi ancora pingato Comunque Non avevi ancora pingato Però lui dice si Ma se pinghi male Ma non è che c'è così Ma non è che c'è così tanta gente Ma non è che c'è così tanta gente Comunque C'è nessuno Ma perché tutti in infinita Non c'è nessuno Ma che ti rimuove Perché sei rosso Ma non è vero anche lui Cosa vuol dire E non vale che anche lui Siamo in due Anche lui stai pingando insieme Un tedesco c'era No spagnolo Sì ma non hanno una selezione Oh fino adesso Mi incontro a vedere l'omega Comunque E perché non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma fai un infinita Scusami Fai una classificata Ma non c'è l'omega In classificata Vi ricordate autentico Quando all'epoca Tagliavamo le attese Adesso vi potete E le beccate tutte Perché questa è fase preparatoria Tutto in diretta Con fase preparatoria Il problema è che non abbiamo il tempo fisico Di fare quattro video lunghi Perché ad ambiti si fa in vacanza Ma cazzo vuoi Ma che ho quattro video lunghi Ma facciamo quattro video Adesso Si ma non possiamo Non tagliare le cose Perché se no Mi da un minuto testa Oppure nemmeno dormire tre No va bene Facciamo vedere dritto Sì la scusa buona Però non tagliare Va bene Ah io non ce l'ho voglia di tagliare Ecco vedi Ecco vedi E intanto ti viene incontro E intanto mi viene addosso Esatto Mi sta venendo addosso Ma non mi sta venendo addosso Con la partita Perché fino adesso Adesso in 15 minuti hai fatto una partita Che ho capito un cazzo E' pieno adesso Si è la classificata La gente comunque Apprezza l'Omega Ma comunque vuole il Ma scusa Ah ma questo è classic mode Si è classic mode Vuole la classificata E' la C questo è come come Vedrete che schifo la partita Ah ma scusa Ma se è lui quindi al computer di merda Vai male anche te Si di brutto Ma è malissimo Ah lui che è atta Ma perchè hai accettato Eh beh Ve l'ho visto dopo Mi ha schiacciato la Vediamo Adesso facciamo una puntata a testa Di gameplay E l'ultima bonus Ma fai un po' che cazzo vuoi Si dai facciamo così Che figo Ken Però lo usano io Lo usano io Ma è solo la modda adesso di Ken Eh si Quindi la computer Si ha il problema della lag Eventuale dell'internet Più il computer di merda della lag Si esatto Madonna è difficile giocare bene Vabbè ma A me non è la lag Guardate che questo Sto giocando più Uno che è il PC E' impossibile avere il PC Che non faccia la Street Fighter Di avere proprio un PC Un PC Un portatile vecchio Un portatile vecchio Forse anche il mio portatile Vabbè no Questo sta giocando veramente bene Questo poverino Questo veramente Hai appena iniziato a giocare la Street Fighter Vabbè Poi lo usare io Beh Shookenforte sul rialzo Poi Exe Quasi ad Albis Lo insegna normalmente Ma neanche ad Albis Ma su PC c'è veramente asilo eh C'è la merda C'è la feccia Non era in offerta su Steam questo No ho capito Però è sull'asilo Siccome faceva schifo l'online Allora secondo me Sono rimasta solo più la gente No ma in realtà adesso In realtà la versione PC E' meglio di quella console Perchè è l'Arcade Perfect C'è esattamente quello E' esattamente quello Che c'è nei cabinati giapponesi No io ho capito Però se fa schifo l'online Eh ma l'online in realtà Non fa più schifo Si puoi ancora fregarle Come i vecchi tempi Con il Focus Dash No non lo frega E l'ha fatto adesso Ma non l'ha fregato Ah lui lo faceva comunque E' ancora quel livello Che addirittura lo faceva comunque Guarda guarda E' lungo Io appena schiacci un debole Sulla stringa Lui spamma Fermo E' prova le cose va' Mezzo Amooo Uuu Uuu Eeeeeee Vuoi edificarti le botte sulle spalle Non so perchè Che è io Questo qua può fare la squadra Ma hai fatto anche la combo bravo E beh infatti questo Non da emozione Perchè non è come quello che fa Adalvis Che lo fa Ammuccio Ammuccio E' Ammuccio che va E quello è il bello Ammuccio che va Questo era in combo Provo facile Combo facile In combo In combo non puoi fallire Questo costume è una pigliata E' praticamente come di Ryu E' uguale Guardando quello Non mi interessa vedere questi fighter base Così mi sembra di strisciare In un gioco di merda Non si striscia No L'unico è qua Ma però devi vedere gli altri Eh no Caccia pronto Sono a metà Sono a metà Non è che Ma solo non puoi creare Abbiamo provato Nessuno Invita Invito chi Ho messo gli amici offline Così non mi ha un po' nel cazzo Eh allora Non sei un social player Ma su Steam è una merda E lo che è un sociopatico Esatto Allora è vero La differenza fra sociopatico e psicopatico Visto che noi non siamo andati su internet Voi andrete a vedere e ce lo direte E scrivilo E scrivilo Con l'esatta definizione che ti ha Wikipedia No però è vero Il sociopatico non mi ricordo Sarà più una cosa tipo Con gli altri sicuramente No sociopatico ti crea ansia La gestione delle Le risorse No delle comunicazioni Delle risorse No perché è una cosa più Sei a disagio con le persone No è ancora peggio E' peggio perché il sociopatico Lo dicono proprio a volte Anche quando lo dicono nei film Tipo di uno proprio che tipo Va a ammazzare anche la gente in giro Cioè il sociopatico è abbastanza potente Eh punto E ma in modo Invece il psicopatico magari solo fa No Sai cos'è? Sociopatico è più quello che se ne sbatte proprio al massimo invece Non è capace a trattarsi nella società Perché non è in grado di capire le altre persone È un altro livello Disturbo antisociale di personalità Ah ma vedi su internet allora Eh si Ma cosa stiamo giocando? Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando che fiscano l'oro Ha 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 No ti prego però Loc Ha 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 Sembrava Cody Tipo ha ha No non era così No è proprio simile Non ci voglio leggere Se sto postando Ce lo direte voi in quattro parole Quattro eh Dai Vai Ma questo è A me che ne ho messo sei round Io non ho messo niente Adesso rimpiangerete le attese L'oro l'ha messo Io sei entrato coglioni Eh lo so Però adesso vediamo La gente rimpiangerà le attese Non tanto bene Eh ma si potrà fare il video più corto eh Tagliando solo le attese Era uguale Si però era corto e non sento Invece voi vedete tutto il retroscena di Super Mario Bros Tutto Solo il menu Solo preparazione a un gioco che non ci sarà E anche noi ce ne andiamo E lasciamo solo il menu E lasciamo solo il menu Ma magari ti metti me E adesso è un'altra volta Magari sai cosa mettiamo una musichetta sotto E qual del gioco E qual del gioco Si Vabbè ma vorrei far notare Guardate che bello il mio mobile Dei giochi Quanti giochi della Delle Xbox solo ha Allora Voi Magari E questo qua è uno Street Fighter barra talk Ma il problema è che Non ci arriva la risoluzione a capire che giochi sono Vabbè no Ma di più eh, se voi avete, però tornate a zoomare e non c'è niente, non si vede qua è lo schermo grosso così, sgranato non vedete neanche la mia faccia non vedete neanche che ho cambiato look, non so se avete visto in altri video però, cioè se voi aveste lo zoom e poi aveste la soluzione vedrete quanto è bello ad albis no, vedreste quanti giochi puoi giocare nessuno, talmente fanno cagare questo, questo è un gioco nuovo che ho preso recentemente questo qua è un gioco nuovo che ho preso recentemente si chiama video del matrimonio ce lo guardiamo adesso la prima copertina si, ce l'ha dato i 4 ma che schifo un bel 49 minuti di video ed è poco, un bel 49 euro l'han fatto bene 2000 l'han già fatto bene perché tante volte normalmente fanno tipo video ma l'hai visto? il dvd si chiama no, perché lo vedo a Natale con i parenti non voglio di vedermelo presto e ci siamo il dvd si chiama Oggi Sposi Oggi è fantasia, eh, cazzo presto in tutte le cinoteche cinoteche non sprecarla sta partita, eh adesso lo dico perché Ray non lo sa contro Link siamo contro Link Ray è tutto il tempo che stiamo registrando col gatto dietro l'altra e non lo sa e non ha avuto nessun sintomo di allergia ma perché l'altra volta lo sbattevi avanti e indietro era uguale non dì che dormia po' è un panno così no, Cody vs ah no, pensavo fosse il Cody Link è Cody però ma lui c'ha la spada no, perché ha cambiato costume e poi tu vedi la spada ma come fa? ma lui le tiene la spada adesso? o quando la prende si trasforma in... io non è un coglione questo no, perché anche sta lanciando le cose di Link lo prova qualcosa per vedere che è Omega ma lo prende la spada vuoi vedere Cody con la spada di Link? no, 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 no questo cancela le cose di Link poi fra l'altro in Omega Mode ti rialzi subito si, quello lo so come l'Omega Mode si rialzi? e quindi è scavato? ah, cazzo prendi la spada fagli prendere la spada ah, si rialza subito? si, non c'è delle... è micchia si, è stranissimo lui è in Omega, anche lui si, per po' io non sono Omega fra l'altro, io non sono Omega non l'ho scelto sono normale io sto combattendo con che è normale e vinco lo stesso con che è normale contro Cody Omega ma sei un idiota di merda perchè più che altro voglio perdere l'Omega e Ken con l'Omega non l'ho ancora visto lo vedete, nella terza puntata quando giocherà Dalvis no grande attesa quindi siamo proprio svantaggiatissimi ah, si guardi, tu sei alto un po' mezz'ora invece lui si rialza subito si fa vedere butta la terra non lo sto ancora a toccare ma qual'è la cosa figa che sta facendo lui? ah, quella, quella figo lui è più sgravato e tu sei una merda può cancellare le cose fighe eh ma che Rock Rock ahahahah allora il problema è che se tu ti chiamerei lui si chiama Lock ogni tanto la mia mente li mette insieme e quello è un casino e lo chiamo Rock bravo eeeeee bello bello veramente bello è Omega bello è Omega come lo vuoi fare queste fighe è Omega praticamente Marmel si ma eeeeh casa come si chiama se lo vuoi cercare come amico Hasboss simbolo del dollar simbolo di Batman hehehehe un altro simbolo di Batman Ma che roba? E questo è difficile come riferimento da capire Ma più due è di Santori Santori è famoso Vabbè vediamo, commentate il riferimento di un altro simbolo di Batman Poi l'ho detto solo così Ma cos'è che lancia gli anguri? No, i Deku Sid stavano I Deku Sid I Deku Sid Anzi, Su Ryuken Ma questo è scarso Locke dopo questa partita è finita la tua vita Anche se prima ho detto non è un coglione Non è un coglione però Locke è più bravo Anche se non gioca più non strisciando neanche a casa sua Che neanche a casa sua striscia Però è più bravo lo stesso Penso che al principio non lo attacco più a casa Ma che incredibile Locke Ha l'orgoglio quasi peggio di Ryuken In quello si Questo che ad esempio non l'ho mai visto Cos'è? Pa 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 tre calci in buona sembrava O-Rang sembrava O-Rang E quindi hai perso? Due pari figli di Troia Vabbè non è che hai detto uno pari di Troia No, vedi io sono pubblico perché ero dei picchiaduri Non dicevo neanche più i detti dei picchiaduri Zero Vi fottete Però guardate su un altro canale picchiaduri che non c'è E te lo giochi a casa tua Perché picchiaduri li facciamo solo noi No, ve l'ho cancellato No, ve l'ho cancellato Ve l'ho cancellato Olè Non so dire queste cose che fai però Bravo lui anche senza Omega Che cazzo di me frega ti fai numberless ok o why Ti non l'ha falluta non l'ha fatta Eh mi sa Mi sa che L'Omega aiuta Ti saluta così Attenzione E' l'ultra mutuo che ti puoi fare E' l'ultra mutuo che ti puoi fare E' l'ha fottuto Si l'ha capito E' basta direi Basta direi perché adesso tocca a Ray Nella prossima puntata vedrete Ray in Street Fighter moddato Omega Edition Ultra Skrouse Ah che pace Ma perché vuol dire natura lo Live nel mondo di video giochi sarebbe molto meglio Steelport in centro 4 Ma che bello era questo mondo digitale dove tutto vuoi Puoi fare tutto Allora pensalo Allora pensalo